GF VIP, Gwendalina Tavassi difende il fratello, l'inata lo sfogo social dopo il Van Gate. Gwendalina Tavassi vs GF VIP. Dopo la decisione di Alfonso Signorini, e degli autori. Di punire Edoardo Tavassi, Nicolín Corvaia, Nicol Murgia ed Edoardo Donnamaria mandandoli in nomination. Colpevoli di aver staccato i microfoni del Van e aver pronunciato frasi pesanti nei confronti di Daniele Dal Moro. Guardando la diretta, Gwendalina si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, e ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli incurvassi non c'era l'inculata. Leggi anche Antonella Fiordelisi, Daniele, questo è il letto di Gaele, porta sfiga. Andiamocene. Torna il bullismo al GF VIP. Scusate continua ma mi viene troppo da ridere, non si sente un cio. La clip sulla coppia per poi punirli. Gli facessero uscire così chiude il GF VIP. Dai le parole di Gwendalina. Gwendalina Tavassi difende il fratello e gli altri tre dipponi che, a detta sua, sarebbero stati sottoposti ad un vero e proprio processo. Uno fa la battuta scherzando. Magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante. Lo sfogo di Gwendalina non si ferma, anzi, fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i GF è capitato questo. Avranno anche sbagliato. Ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo. Ma il GF VIP pomare fuori. Sunt tot mai, tot mai sus, 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 sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu ma-mbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Stii, nimic nu mai e la fel, pupilaria s-a maturizat sever. S-a luvit pana acum de fel, de fel, de oameni de pareri, enti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt multi, dar vad si altii care lupta incercand sa mutem multi. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor sa ajunga tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.